Berlusconi è stato importante, però ripeto, mi interessa il futuro, mi interessa scommettere sul futuro e preparare un progetto futuro e non guardarmi alle spalle. Spero che Berlusconi ne faccia parte. Voglio ridare speranza agli italiani di centrodestra che sono disillusi. Con un progetto serio e concreto, il no all'immigrazione, il no a questa Europa, a questo Euro, il no alla politica delle tasse, l'aumento dell'IVA di Renzi, l'Italia può ripartire senza Renzi e quindi la Lega è un piccolo strumento a disposizione di tutto questo. Spero che Berlusconi capisca che bisogna guardare avanti e non guardare indietro. Mi spiace per gli elettori di Grillo, sempre più delusi. Renzi si appoggia un giorno a Berlusconi e un giorno a Grillo, ma sui temi che non interessano a nessuno. Io l'accordo con Renzi lo faccio sulle tasse, sull'Europa, su Mare Nostrum e su quei temi lì. Lascio che Grillo si diverta parlando di consulta con Renzi. Della legge elettorale la Lega non gliene può fregar di meno. L'emergenza sono l'immigrazione e la disoccupazione. Io non perdo neanche cinque minuti a discutere di legge elettorale, di consulta e di quelle cose lì.